Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita! Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per far durare di più le lampadine, ti consigliamo di non toccare mai il vetro con le dita o se lo fai, di pulirlo bene con carta assorbente prima di rimetterle a posto. Per accedere e sostituire le luci dei fari posteriori, bisogna aprire il bagagliaio e togliere tutto il blocco del faro. Apri il bagagliaio. Usa un cacciavite a bussola con inserto Torx da 25 per rimuovere le due viti di fissaggio esterne della lampada. Sgancia la lampada spostandola leggermente dal bagagliaio e poi tirandola delicatamente verso di te. Per sostituire le lampadine delle luci di stop, degli indicatori di direzione e degli antinebbia, ruotale di un quarto di giro in senso anti-orario e afferra la base della lampadina. Poi rimuovi il blocco. Per sostituire le lampadine, basta spingerci sopra e ruotarle di un quarto di giro verso sinistra. Per rimontarla, ripeti l'operazione in ordine inverso. Per sostituire la lampadina della luce di retromarcia, ruotala di un quarto di giro in senso anti-orario e afferrala per la base. Poi tirala verso di te per rimuoverla. Per rimontarla, ripeti l'operazione in ordine inverso. Inserisci la nuova lampadina nel suo alloggio. Riavvita le due viti di sostegno del faro. Operazione conclusa. Iscriviti al nostro canale.